ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco c13 hood kit riken europe srl ultimo aggiornamento 4 novembre 2021 cosa c13 hood kit confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni osologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere c13 hood kit durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa c13 hood kit c13 hood kit ha un farmaco a base del principio attivo urea 13c appartenente alla categoria degli diagnostici e nello specifico altri diagnostici è commercializzato in italia dall'azienda riken europe srl c13 hood kit può essere prescritto con ricetta rnr medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta confezioni c13 hood kit kit 1 flac 75 mg più 1 boost 1,4 g più 2 cannucce più 4 prove informazioni commerciali sulla prescrizione titolare riken europe srl ricetta rnr medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta classe h principio attivo urea 13c gruppo terapeutico diagnostici forma farmaceutica polvere indicazioni diagnosi in vivo dell'infezione gastroduodenale per il controllo dell'eradicazione dell'elicobacter pilori nell'adulto e nel bambino posologia c13 ubt kit a un test sull'espirato il paziente deve assumere per via orale una dose di acido citrico come pasto presomministrato al test ed una dose di urea marcata con 13c di sciolti in acqua il test prevede una singola somministrazione l'esecuzione del test richiede circa 40 minuti il paziente deve essere a digiuno da almeno 6 ore preferibilmente per tutta la notte la soppressione dell'elicobacter pilori potrebbe fornire risultati falsi negativi pertanto il test dovrà essere ripetuto dopo almeno quattro settimane di sospensione della terapia antibatterica sistemica e quattro settimane dopo l'ultima somministrazione di inibitori della secrezione gastrica che potrebbero interferire con la presenza dell'elicobacter pilori questo particolarmente importante dopo la terapia di eradicazione dell'elicobacter pilori eseguire l'esame con il soggetto a digiuno a riposo senza bere senza mangiare senza fumare sciogliere l'acido citrico in 200 ml di acqua far bere metà del contenuto 100 ml della soluzione immediatamente prima di effettuare il primo prelievo di aria espirata t0 sciogliere l'oreaci nella soluzione rimasta 100 ml e farla bere completamente mentre si fa partire il cronometro t0 effettuare il secondo prelievo d'aria espirata dopo 30 minuti t30 tecnica di prelievo dell'aria espirata provetta da 10 ml con tappo perforabile stappare la provetta inserire la cannuccia fino in fondo alla provetta dopo aver chiesto al paziente di inspirare profondamente farlo soffiare nella cannuccia per circa 15 secondi finca copyright non inizia a firmarsi una condensa sul fondo della provetta stessa ritirare allora la cannuccia chiedendo al paziente di continuare a soffiare e tappare la provetta immediatamente effettuare il prelievo d'aria espirata t0 ed a t30 in doppio controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti accertata o sospetta infezione gastrica o gastrite atrofica per possibili interferenze con il test avvertenze speciali e precauzioni di impiego in alcuni casi il test può dare dei falsi negativi pregressa gastrectomia per accelerazione dello svuotamento gastrico somministrazione di trattamenti per l'eradicazione delle licobacter pylori nei mesi precedenti un solo vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono note interazioni con altri farmaci ma il test sarà influenzato da tutti i trattamenti che interferiscono con la presenza delle licobacter pylori o con l'attività dell'ureasi vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere c13 ubit kit durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere c13 ubit kit durante la gravidanza e l'allattamento non si ritiene che c13 ubit kit possa causare effetti durante la gravidanza dal momento che l'esposizione sistemica all'urea 13 cia trascurabile si raccomanda di osservare le avvertenze relative all'uso vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari nessuno noto effetti indesiderati nessuno noto vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio non sono stati riportati casi di sovradosaggio proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica altri diagnostici codice atc v04 cx test di esplorazione funzionale l'ureasi batterica prodotta nello stomaco da parte delle licobacter pilori idrolizza l'urea in ammonio e bicarbonato sotto l'effetto dell'acidità proprietà farmacocinetiche l'urea 13 c somministrata per via orale viene metabolizzata ad anidride carbonica e ammoniaca o integrata nel ciclo fisiologico dell'urea l'assorbimento e la distribuzione di 13 co2 a più veloce della reazione catalizzata dati preclinici di sicurezza la dose di urea somministrata ampiamente inferiore alla quantità normalmente presente nell'organismo umano elenco degli accipienti acido citrico fu in contenitore separato farmaci equivalenti i farmaci equivalenti 12 13 uvd kit a base di urea 13 ci sono elico kit fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato